Vai, vai Vai, vai Fai la fotografia Ma no, fai la ripresa Dimmi, dimmi, dimmi I miei currini locai a mia ragazza questo quadro che ha detto auguri a 90 anni a tutti Allora voi dice dai a mio frate e volevo passare a lui questo quadro qui con la memoria e dopo è che l'ha di tirare via Titi e metti pagnotta E provare il pagnotta